Il Barletta Calcio 1922 ha annunciato l'allargamento della base economica con l'ingresso di due nuovi elementi all'interno del collettivo imprenditoriale rappresentato dal presidente Sabino Falco, ma allo stesso tempo ha rimarcato in maniera vehemente la posizione nei confronti dell'amministrazione comunale chiamata a consegnare per tempo il Manzi Chiapulin. Mentre cresce l'entusiasmo intorno al sodalizio bianco-rosso, infatti resta l'annuosa questione stadio con il Puttilli fuorigioco e fermo ad uno stato embrionale ed il secondo stadio della città non ancora agibile per le gare casalinghe della formazione barlettana. L'ultimatum che il Barletta 1922 ha dato all'amministrazione comunale è il 20 agosto. Dopo quella data vi potrebbe essere la restituzione del titolo all'amministrazione comunale. Perderemo dei soldi compresi gli stipendi anticipati, ma non conterà, scrivono nella nota. Vogliamo delle risposte. Nei prossimi giorni ulteriori novità nell'organigramma societario, come confermano dalla società bianco-rossa, è nel roster della rosa che vanta già il primo colpo di mercato con l'arrivo di Nicolas Dirito. Ma ora è tempo di battere i pugni sul tavolo con l'auspicio di non dover vanificare gli sforzi compiuti fino a questo momento, inimmaginabile per i dirigenti bianco-rossi condurre una nuova stagione interamente in trasferta, per esempio nuovamente al San Sabino di Canosa.